Siamo a Lagancia, un'azienda storica di Canelli nell'Astigiano e siamo con Francesco, che è cinese, ma parla un italiano fluente, lo sentirete, e a lui, che si occupa di vino da tanto tempo, vogliamo chiedere soprattutto il bracchetto, che tipo di attenzione e di appeal ha nei confronti del consumatore cinese. Allora, il bracchetto d'acqua, come questa tipologia di vino, per me si incontra molto bene ai nostri gusti cinesi, perché anche in tante zone della Cina noi abbiamo un gusto più verso i gusti morbidi, dolci, fruttuosi. Allora, cioè questo è un vino che può accontentare tutti questi aspetti, specialmente io vengo dalla zona di Shanghai, intorno a Shanghai ci sono diverse province nostre, lì la cucina anche, i gusti di queste cucine sono un po' verso le dolci, e allora per me anche questo vino si abbina abbastanza bene con alcuni piatti della zona. Ecco, hai detto piatti della zona, ma quindi piatti non dolci, ma anche piatti particolari, che tipo di piatti possono abbinarsi con il bracchetto d'acqua? Allora, mi è venuta in mente, certo, ci sono dei piatti a base di verdure, però fatto un po' dolce, oppure qualche piatto anche un po' agrodolce, che è una specialità della nostra zona, anche per quel tipo un bracchetto, perché grazie anche alle sue pollicine può aiutare molto per abbinare i piatti. Quindi il mercato cinese può essere veramente un mercato interessante per il bracchetto? Io sono, cioè, come mostacato d'asti, anche il bracchetto d'acqui, perché noi abbiamo già fatto un po' di degustazione con i consumatori cinesi, il feedback è molto, diciamo, ci fa molto piacere, molto interessante, perché specialmente è sempre, è un vino che fa molto piacere alle donne, e, diciamo, maggior parte delle donne cinesi, nonostante le loro età, un bracchetto fa sempre molto piacere. Poi è anche un vino che parla da sé, cioè non c'è bisogno di dare tante spiegazioni ai consumatori, di educarli, formarli, ma semplicemente si beve, si sente e si piace. Ecco, ma è vero che c'è anche, sì, adesso lo beviamo anche, ma c'è anche la componente del colore, del rosso, che piace al mercato cinese, è vero questo? Magari questo è anche un vantaggio, poi vediamo se è veramente un vantaggio, perché di solito ai cinesi piace vino rosso, preferisce vino rosso molto di più che i vini bianchi, e allora, però come un vino rosso non fermo, diciamo, con un po' di poricine, e allora ha ancora un concetto, un'idea che è di fargli capire, diciamo, che un vino rosso può fare anche versione frizzante, poi ha tutte le caratteristiche di un moscato. Voi state facendo questo giro, questo tour, operatori e giornalisti cinesi nel Monferrato, nell'Astigiano, avete visto aziende, siete qui alla Gancia, avete visto la Bersano, siete andati anche nella zona del Barolo, com'è la sensazione di giornalisti e operatori cinesi, quello che hai visto tu? In generale questo è un tour, anche per loro è proprio un'esperienza nuova, e comunque la loro impressione hanno notato che questa diversità, questa varietà anche dei vini del Piemonte, che c'è tutta la versione da bianco a rosso importante, da rosso giovane, anche questi spumanti, anche spumanti dolci, cioè più o meno una Piemonte può accontentare la maggior parte dei gusti dei cinesi. L'ultima cosa, come si dice alla salute in cinese? Allora, kanbei, chujian kang, kanbei.